Di questa nuova edizione della Sagra della Porchetta di Colledara cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? Come ogni anno è un appuntamento alla Sagra, noi porchettari di Colledara diamo il meglio per far vedere il nostro prodotto che è veramente un prodotto squisito. In che giorni ricordiamo? Il 17 e il 18 agosto quest'anno si incontra. Non ci sarà solo porchetta immagino? La porchetta e tanta birra. La birra va con Zeppanino con la porchetta e con la birra è proprio il top. Ci saranno anche altri eventi collegati? Sì, gli eventi si balla in piazza e ci sta a Provenzano il nostro DJ di domenica. Facciamo un po' di discoteca anni 90.